Oggi ricorre il 170esimo anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato con celebrazioni in tutta Italia. Anche a Padova, alla fiera dove la cerimonia, hanno partecipato anche gli studenti delle scuole. Pandemia e guerra, i temi principali toccati all'evento. Alessia Piovesan. 170 anni, gli ultimi due duri, difficili e con perdite. La Polizia di Stato festeggia un compleanno a Padova, al Palacongres della fiera, dopo la pandemia e con una guerra in corso. Nel paese per Covid sono morti 20 agenti sui 34.000 infettati. Per questo impegno il presidente Mattarella consegnerà proprio a Roma, simbolicamente alla bandiera della Polizia, la medaglia d'oro al merito civile. Garantire la sicurezza resta intanto l'obiettivo costante, ma anche a Padova il questore appena arrivato, avvertito un forte senso di insicurezza. I reati nei numeri sono in calo dell'11%, quelli predatori addirittura del 26%. Sono in aumento le truffe, sono in aumento, anche se poco, le violenze domestiche. Tutti gli altri dati sono in regressione, devo dire. Alto l'impatto di pandemia e lockdown sui giovani. Viaggiano sui social molti appuntamenti che si danno i giovani per procedere a delle risse, alcune le abbiamo scongiurate fortunatamente. Le truffe, comprese quelle informatiche, sono salite del 48%. È un fenomeno molto spezzettato e fatto di episodi molto piccoli. La cosa importante sarebbe la prevenzione. Recente, ancora sotto indagine, il cyberattacco all'Ulssia e Uganea. Sul territorio intanto, tra uffici migrazione della Polizia e Prefettura, si gestiscono i nuovi profughi cittadini ucraini in fuga. 2.000 presenze circa. Abbiamo circa 300 persone nei CAS e una novantina di persone dimoranti presso l'Hub regionale di Monselice.